Ma io ho l'impressione che Berzani i problemi ce l'ha da tutte le parti, in casa proprio e fuori casa. Ce l'ha in casa perché evidentemente c'è un dibattito interno al PD. Ce l'ha fuori casa nel senso che se non apre un confronto con noi, con chi lo apre, con chi tutti i giorni lo insulta e gli attribuisce pure un soprannome, adesso scherzo, però sotto lo scherzo c'è una realtà molto seria. Grazie a tutti.